Ciao a tutti ragazzi, e dopo l'uno c'è il due, non so quando è volto ho detto sta frase per iniziare il suo benedetto video, ma forse questa è quella buona. Ragazzi aspettate prima di iniziare. Ogni volta che provavo a fare questo video crashava tutto, perdevo, esco mi prendeva, perdevo, esco mi prendeva, perdevo, crashava tutto ragazzi. Quindi permettetemi di fare questo episodio in Ghost, anche perché l'Ice Scream 1 l'ho fatto in Survivor, permettetemi di farlo in Ghost per favore. Ragazzi sto passando all'inferno, sto passando all'inferno. Questo video oggi non si voleva fare, Ice Scream 2 è l'Ice Scream più brutto che abbia mai giocato. Comunque, in cambio vi dirò delle notizie di Rod, mentre ferrò la partita in Ghost, vi dirò delle notizie sul gelataio pazzo, e vi traduco tutto. Quindi ecco qui le foto dei nostri amici. Ciao Silvio, ciao Samuele, ciao Luca, ciao Mattia, ciao Nicola. Olè, Ice Scream 2, il giorno dopo. Mike, comunque, in questo Ice Scream è molto più diverso, perché già l'anni è fatto brutto mentre parlavo. Vabbè comunque, non scherzare con me dammi là il gelato. Ehi Jay vuoi giocare? I ragazzi sono nel posto segreto, hanno detto che c'hanno qualcosa di... Mia madre ha detto che c'hanno qualcosa di segreto da dirmi, e poi da dietro... Ora si vanno a divertire. Mamma mia, mi piace troppo Ice Scream come gioco horror, cioè mi piace proprio il personaggio. Mi piace anche il tono di voce che c'ha proprio tutto. Ice Scream, se è il mio amore, guarda, se è il mio amore... Mi piacerebbe tanto che Ice Scream sarebbe il mio padre oppure il mio fratello. Boh, che ne so. Vabbè, no, scherzo, che dopo ci passo per i guai... No, veramente lui, però... Ok, raga, facciamo subito perché tanto l'Ice Scream è corto qua. Beccati questo, e beccati pure questo. Prendiamo qua. Prendiamo la mappa, come primo posto dobbiamo andare alla stalla. Io qua morivo sempre. Perché voi direte? Perché è strettissimo. È peggio dell'Ice Scream 1, è più stretto dell'Ice Scream 1. Cioè, è vero che l'ha allargato, però va bene. Cioè, no. Ok, questo è Rod da piccolo. Comunque il gelatario si chiama Rod. E questo è lui da piccolo a scuola. Perché sono così differenti dagli altri? Perché tutti dicono che sono così differenti dagli altri? Sta piangendo perché dice che è differente dagli altri, capite? Ieri ho solo provato uno speciale gelato di mio padre. Tutti quanti lo sfotto gli dicono, ciò, bì, ciò, bì, perché sono differente? Ciò, bì, ciò, bì, perché sono differente? Ciò, bì, ciò, perché sono così, ciò, bì. Vabbè, comunque, ecco qua. Allora, il gelataio Ice Cream, questo qui, il gelataio, in realtà non si chiama Ice Cream, Ice Cream è il nome in inglese di gelato. Ma in realtà lui si chiama Rod. Rod Winsale, una cosa di questa. Lui si chiama così e è stato adottato, credo, da una persona, mamma mia i rumori, è stato adottato da una persona maschio, no, maschio per precisare, perché, capitemi, ma si poteva spaccare il vetro? Mi ricordavo di sì. Non si può spaccare, mannaggia. Vabbè, comunque, è stato adottato da questa persona e questa persona era anche lui un gelataio, cioè questa persona era un gelataio, ok? E diventò il padre di Rod. Però Rod, quando ci aveva pochi anni, cioè dieci, boh, una cosa di queste, come a noi, per esempio, gli morì il padre perché venne investito da una macchina e quindi rimase orfano e viveva da solo nella casa. Ma la sua vera madre gli mandava delle lettere. La sua vera madre era una sura che aveva fatto un patto con un diavolo che, in cambio, gli dava una... Ma che vuoi? Guardate, c'è il bigliettino qua, Rod, Rod, guardate, Mr. Rod, mamma mia, che bello. Ma che vuoi? Vabbè, comunque, ora lo dovrebbe andare a prendere qua. Vabbè, la sua vera madre gli scriveva ogni suo compleanno delle lettere. Allora, dobbiamo andare qua. Ecco il padre. Padre, tu eri la mia unica famiglia. Non ho mai conosciuto mia madre. Non mi ha mai importato. Noi eravamo un grande team. Avrei sempre voluto diventare un genetro grande come te. Ma il tempo scorreva. Ha avuto problemi a scuola. Tutti si meritano quello che si meritano. Arriverà anche il loro time, il loro tempo. Non è vero, padre. E così lui rubò la maschera al padre. Diventò lui ice cream. Ma perché non viene qua? Lui ora dovrebbe accendere la tomba del padre. Perché non lo fa? Ma guarda, si insinua là dentro. Andiamo al circo. Perché è al circo che si svolge il tutto da farsi. Vabbè, comunque. Sua madre o una suora aveva fatto un patto con il diavolo. Il diavolo gli ha dato una figlia. Quindi la suora partorì. Ma il figlio venne adottato da un padre. Che è questo gelataio. Il padre venne investito quando il bimbo, quando Rod aveva solamente 10 anni, 12, 11. Venne morto il padre. Lui rimase orfano. Ma la prima botta, guarda. Come stai, Jay? In cambio ti darò un qualcosa. Però mi devi dare una cosa di carino. Quindi. È vuoto. Perché i fish che il camion hanno ogni tanto? Io non lo so. Vabbè. Comunque, vediamo se lo c'è. Ma... Vabbè, comunque. Rimase orfano e ogni suo complanno gli scriveva la sua vera madre. E la sua vera madre gli smise a discrivere a 25 anni. Poi anche l'amore. E se ne va arrivati. A 25 anni. Lui a 25 anni fece, iniziò... Prese un lavoro, quello di caffetteria, faceva il caffetteria, vabbè, faceva... Lavorava alla caffetteria. E praticamente, poi ha smesso di lavorare alla caffetteria. E per ricordare il padre, iniziò a fare il gelataio. Prese la maschera del padre e tutto. Però la sua madre, sua madre, a 25 anni, gli vede l'ultimo messaggio con un libro maledetto. Questo libro c'aveva una ricetta, mannaggia! Eh, vabbè. C'è una ricetta che potevo usare sia per fare bene che per fare male. Ma lui la usò per fare male perché ice cream dopo tutto. Vero, Rod? Sei ice cream tu. Non è vero. E comunque ti meriti questo. Tu dovevi fare del bene, dovevi fare. Così diventavi ancora più buono. Invece no, dovevi fare il cattivo ice cream. Vabbè, comunque. Mi piace come personaggio horror. Allora, poi, Rod la usò per male e creò i chubby boy. Che sarebbe... Vaffanporcello! Non posso perdere tempo con queste cacchiate! Vabbè, comunque. E creò un gelato che faceva diventare i ragazzi, i fanciulli, chubby boy. Che sarebbero bambini grassi. Dai! Allora... E li faceva diventare chubby boy. E lui rapiva questi bambini per farci sperimenti sui gelati sopra. Molto bravo ice cream, vero? No, no, no. Rod, volevo dire. Perché lo chiama ice cream? Ma ho detto che non si chiama ice cream, si chiama Rod. Vabbè. Rod il gelataio pazzo. Ragazzi, il suo video sta durando 10 minuti solo per questo, capite? Ma capite? Ma porca puttina! Ma va a far un bagno, portami fortuna tu! Oh! Vediamo oggi un cacchio! Perché? Perché? Perché l'ho fatto? Ragazzi, passo, passo, passo. Vabbè, intanto che dico il tutto. Ah, godo. Mi viene a fare una caccia? Questa faccia. Apri qua. Vai sotto. Ho detto vai sotto! Ho detto vai sotto! Oh, devo andare sotto, eh. Devo andare sotto. Ok. Vabbè, comunque stavo a dire. E così è la storia di Rod. E lui sta continuando a fare il gelataio, a rapire bambini. Soprattutto i bambini grassi. A lui gli piacciono i bambini grassi. Quindi se siete grassi e piccoli soprattutto, mi dispiace ma siete condannati a morte perché Ice Cream non perdona. Cioè è Rod! Mannaggia, siccome è Rod, non si chiama Ice Cream, sono Rod. Vabbè, comunque. Dobbiamo andare ora. Non lo so, non lo so. Al cinema. Saltiamo il viaggio perché è lungo. E poi lui ci mette 30 anni per arrivare. Però che sgomme tutto, però. Metti una mossa. Ora dobbiamo trovare il profumo e il coso per... Odimi che sta qua, dimmi che sta qua. Sì! Cato, cato, cato. Amore, c'è appena nato da perché... Oh, eh. Che c'è caro Rod? Hai sentito qualcosa? O sta qua o sta nella macchina rossa? Eh, infatti, stavo qua. So tutto. Rod. Come va? Tutto bene? Dai, saltiamo il viaggio, Rod. Comunque ho pubblicato un TikTok, se non l'avete visto. È bellissimo. Nel buio spunta il furgone di Rod. È scritto, indovinate chi è? E voi ovviamente lo sapete, quindi iscrivetelo! Super cool? Magnifico! Ecco qua, ci ha dato un fungo marcia. Non è un fungo marcia, è una mania di una porta. Frase ovviamente l'ho rubata da uno YouTuber. Ehi, Rod! Devo solo prendere una tannica di gas. I bimbi sanno fare queste cose, altro che adulti. Poi dicono che noi non sappiamo fare cose. Dove è Rod? Guardi, non ho bene. Sei buggato? Sul serio sei buggato? No, sei buggato la facevo in survival. Ok, ora dobbiamo andare al cimitero, mettere il mangiare al gatto e abbiamo finito, raga. Abbiamo finito! Incredible! Incredible! Ok, ragazzi, ragazzuoli belli. Dai, saltiamo il viaggio. Ah, Scream, scomba più che mai! Scomba più che mai! Siamo a solo 13 minuti! Record della vita! Record della vita! Dai, gattino bello, piccolo, non vieni qua. Vuoi ballare? Vuoi mangiare, amore? Mangiare! Che bello l'SMR! Mangiare dopo! Devi venire con me. Dobbiamo andare al cinema. Perfetto. Corri, corri! Corri, corri! Corri, 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 olè, olè! Rod, Rod, sei il più bravo tisse del mondo. Gattino bello, ora ti metto al calduccio. Non preoccuparti, non ti preoccupare. Guarda dov'era! Rod, ti lancio il gatto in faccia. Ecco qua. Mi ho sembrato a memoria ormai. Dobbiamo andare ora al cimitero! Ragazzi, abbiamo quasi finito! Ecco, l'ultima scena finale. Questo è il Rod di oggi che parla a Rod quando era triste. Oh, perché sei triste, piccolo fanciullo? Mi sfottano! Sì, non preoccuparti, lasciali stare! Prendi coraggio, sembri tribo. Dovresti aiutare. Cioè, ti dovrò aiutare. Sì, 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 mi insultano, mi fanno, dice Ice Cream. Tutti quanti chubby, chubby, loser. Chubby, chubby! No, non è chubby. Tanto voglio li congelare. Fa bene! Basta, basta, basta! Ma lui se la ride pure. Oh, non pentirti. Inizia a risparmiare soldi. Sta dicendo consigli sulla vita. Devo chiedere aiuto a mio padre? No, lassalo stare. Devi fare tutto da solo. Gelati, boh! Il cuore smette di battere. Riceverai durante i giorni, saprai chi è la tua vera madre, eccetera, eccetera. E lui è felice. Lui è felice! Ok, siamo arrivati. Allora, devo prendere la tanica. Chiamatela come volete voi. Dovevo andare qui, dove sta Ice Cream. Mettere questa qua. Poi, prendere il gatto fasullo, metterlo, metterlo qua. e poi dobbiamo dare fuoco al bomba. Alla bomba, alla bomba, alla bomba. Dov'è la bomba? Allora, mo' dobbiamo attirarlo in qualche modo, vediamo se abbiamo qualcosa nel furgone. Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ci abbiamo questo. Dobbiamo attirare Ice Cream qua. Dai! Vieni qua. Ok, dai, accendi, accendi! Dimmi che accendo, dimmi che accendi, dimmi che accendi! Oh, sa fare il Dio. Non voglio provare cosa succede se gli do una cosa in testa, però. Ecco, l'ha lasciato. E inizia a cantare. Sei proprio bravo, lo sai. Godo. Dobbiamo prendere, dobbiamo, oh, quasi però, sono fatte quasi 20 minuti, cioè. Diamo fuoco qua, e ora farà l'esplosione. Oh mio Dio, è cocco! Miau, miau, miau! Boom! Boom! Oh yes! Lui sentirà tutto e andrà là, però è troppo tardi perché noi salviamo. Comunque il finale, raga, vi farà incazzare, eh! Spassate, se ne va arrivati! Eh! Entriamo nella chiesa, mettiamo la maniglia qua, apriamo, boom, chiave segreta. Chiave segreta! Raga, non mi preoccupate, non succederà come nello scorso video, eh! Non mi preoccupate, non mi preoccupate. Corri, corri! Ice cream, mi dispiace, ma ho già perso. Dobbiamo andare a casa. Ecco, ragazzi, raga, il finale vi fa incazzare, preparatevi, Tenete la vostra rabbia! Io vi traduco! No! Non posso! se salto, mi farò male! Non posso! Ah, le femmine, no! Non sono come noi maschi. Ecco. Ah! Charlie, Charlie, è tua sorella! Sì, è lei, ma com'è finita lì? Ehi, ehi, Lisa! Ehi! Ah, cavoli! Come sai, Lisa? È dal primo giorno che mi sono innamorato di te. Tu mi ami? Sì o no, Mike? Quindi Mike era innamorato di Lisa. Ecco, si finisce l'ice cream 2, ragazzi. Perdonatemi, comunque off camera proverò a farlo in modalità normale dove ice cream, dove Rod mi potrà prendere. E ora vi porterò anche l'ice cream 3. Aspettate un po' di giorni che arriverà anche ice cream 3. Ciao a tutti ragazzi!